L'UCCP di Teramo, l'unità complessa cure primarie, ha i numeri per restare aperta? I numeri sono estremamente favorevoli, ci sono oltre 22.000 accessi che sono di proiezione. Allora perché si parla di spostamento, addirittura di chiusura? Secondo me perché si confonde la medicina di base con l'UCCP con il pronto soccorso. Sono due cose completamente diverse. L'UCCP è stato inaugurato nel 2016 e si trova nella sede dell'ASL in circonvallazione Ragusa? Sì, nella sede di circonvallazione Ragusa, siamo partiti l'11 aprile con due gruppi di medici, in realtà completi dopo il lunedì successivo, visitiamo pazienti 8-20 dal lunedì al sabato con due unità mediche, due infermieristiche e due di personale amministrativo. Come spiegava lei non va confuso con il pronto soccorso? Il pronto soccorso è un altro tipo di struttura, li cura i pazienti acuti. Fino ad oggi si diceva che i medici di famiglia non funzionano, non lavorano, per cui il pronto soccorso è pieno. Noi abbiamo accessi clamorosi, un ambulatorio aperto con due medici, dalle 8 alle 20, ripeto, e in più abbiamo i nostri ambulatori aperti e pieni, quindi il problema è un altro. E allora perché è venuta fuori questa notizia? Forse si tende a spostare per cercare di spostare i medici in altra struttura, ma non si può fare perché questo è territoriale, territoriale quindi deve rimanere confondi a parte sul territorio. Dunque l'UCCP di Teramo resta dov'è? Dovrebbe restare dov'è o in ogni caso, se poi vuole spostarla in un'altra zona sempre fruibile, non all'ospedale. Noi abbiamo dei numeri economici paurosi, vi faccio un esempio per spiegare anche ai ragazzi, non c'è bisogno di essere un bocconiano per fare dell'economia, io non lo sono, facciamo un'economia contadina, le radici sono quelle, e vi dico 22.000 prestazioni. Se contiamo che un idraulico per un diritto di chiamata prende 40.000 euro, siamo su cifre di 900.000 euro di prestazioni erogate all'agente comune in due anni. se vogliamo dirla ancora meglio, le spese del personale che viene fatta l'ASIL sono al 50% perché su quelle si pagano tasse e contributi, quindi il conto economico è clamorosamente a vantaggio sia dell'UCCP che della popolazione normale.